Ciao a tutti ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video dell'Egitto o dell'Igd e della Juventus l'ho saputo adesso, praticamente adesso e sono contento della questo che abbiamo fatto abbiamo praticamente adesso Rabiot, Cristiano Ronaldo in attacco cioè la Juventus sta diventando più forte che può dell'Egitto è un grandissimo giocatore, non è che ha fatto niente di male alla Juventus negli ultimi mesi, cioè non ha fatto niente di male proprio niente, niente ah forse è quello, però, però, però ti abbiamo perdonato se vieni qua e fai un sacco di gol, ti perdoniamo secondo me è stata una grandissima scelta che crea peso dell'Egitto la Juventus, speriamo che vinciamo il campionato sotto Sarri perché sono andato ovviamente, come si chiama a Lega se n'è andato, quindi adesso sarebbe una tecnica forno più bassa però secondo me, adesso che torniamo a dell'Egitto a Rabiot, due acquisti che abbiamo fatto adesso potremmo cercare di vincere ora che torniamo a Iguain indietro, proviamo a vincere la Coppa ora che torniamo a Buffon, proviamo a vincere tutto qui cerchiamo di vincere questa Coppa cerchiamo di prenderci pure Messi, se possiamo scusate, se abbiamo prenduto Cristiano Ronaldo possiamo prenderci pure Messi, eh non è impossibile se è venuto l'uno, può venire anche l'altro comunque, vi riuscirò qui forcivo sempre l'Egitto, anche se hai fatto quel gol alla fine di Champions League sembra benvenuto qua basta chiedi scuse e tutto sarà risolto ciao, forcivo sempre ciao